Una piccola domicilazione, se il consigliere Salva che deve intervenire perché è scritto a parlare e dà conto, il consiglio è venuto a accedere, facciamo questa piccola deroga che gira la cos'era vignata. Prego, cos'era vignata. Grazie per la concessione, Presidente. Volevo solo precisare che nel mio intervento precedente ho parlato qui a giudizio, invece sono solo formalmente indagati, quindi rettifico questa battaglia per la priorità fondamentale. Grazie. Consigliere Salva. Io sono bravo e inizio con un atto di verità, vi farò terrorismo psicologico. Io lo scusa, Presidente, non c'è per fare entrare in aula i consiglieri? Allora, allora, consigliere Salva, allora io posso, consigliere Salva, io posso fare un video, ti porto la mia domanda, mi considero il numero della scuola di essere presenziato o io? No, volevo tutti. Consigliere Salva, che è successo? No, no, sono solo un video, un gruppo campagna libera. Allora, allora, la consigliere di, pensiamo agli altri. Allora, c'è una necessitazione della posizione Marco che vuole depositare agli altri le grandi spede che lei ha avuto oggi. Allora, prego, lascia un attimo. Ho dimenticato un attimo nella programma, consegniamo noi un documento con gli allegati in cui c'è tutta la spiegazione, la dimostrazione del motivo per cui noi riteniamo che questo bilancio è falso, quindi lo mettiamo agli altri. Grazie, consigliere Nato, prego, sempre, professore, se vuoi recuperare un attimo i documenti. Hai visto la parola il consigliere Salva, un attimo solo consigliere che faccio un sovistico che ha un attimo. Prego, consigliere. Dicevo, io farò e cercherò di fare quando per terrorismo psicologico possibile. Nel senso che vi salterò quasi per tutto quello che dicono i revisioni dei conti e spero vivamente faccio una piccola premessa e chiedo scusa a Luisa. Forse, con la professoressa Marco, non si è resa conto che il dirigente non può parlare perché abbiamo fatto la premessa la volta scorsa, non è ancora dirigente di questo comune in quanto non ha una determinata riassunzione, quindi forse per questo non parla ancora. Dicevo, faccio un piccolo salto veloce sulla padere dell'ordine delle visori che spero che voi consideri di maggioranza avete letto e approfondito che oltre ai 15 giorni avete studiato un qualcosina e più, quindi spero che abbiate letto. Parere delle visori talmente copiato dall'ordine dei commercialisti che non hanno tolto nemmeno il logo dalla pagina principale. Lasciamo stare che all'interno ci sono riferimenti al Friuli, Venezia, Giulia e altri Stati. Parlano i revisori dei conti, non risulta un aggiornamento dei beni immobili, non vengono rispettati i tempi di pagamento ai fornitori. Allora, stavamo dicendo che i revisori hanno segnato, non vengono rispettati, i tempi di pagamento ai fornitori. Questo a pagina 6. Poi, siccome hanno copiato, a pagina 16 c'è scritto, l'ordano chiedo scusa se non siete, considera se non vi interessa, se vi potete portare una ragazza. Allora, però così esatto, scusi, voglio solo fare la gestione, anche se non è necessario di un interesse di attenzione, quindi i revisori non hanno lavoro sui voti, non è necessario che sono solo questi per evitare la pagare, ma ci vediamo tutti i piedi, Cortese, Ferdana, Orsino e Pietro Lassico Cortesiglia. Allora, prego, signor Salvo. Stavo dicendo, Salvo poi, a pagina 16, gli stessi revisori che a pagina 6 hanno scritto che non risultano rispettati i tempi di pagamento. A pagina 16 i revisori scrivono, l'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le revisioni di cassa del primo esercizio. Ci sono tutta una serie di altre controindicazioni, di pareri, di note e così via. Ma vengo direttamente, ho detto, stavolta mi salto tutto questo perché vi devo fare un po' di pressione psicologica. La faccio in questo momento, Mauro, a te, chiedo scusa se ti noto, no? Consigliere Salvo, posso un altro po' di pensare, mi rivolgo a consigliere, mi rivolgo a consigliere, mi rivolgo a consigliere, non mi rivolgo a consigliere, mi rivolgo a consigliere, mi rivolgo a consigliere, mi rivolgo a consigliere. Bene, il consigliere, purtroppo io sono male, potre, consigliere, non lo faccio, ma non è il problema. Un consigliere della Magia, in particolare il Presidente della Commissione, ha detto che non c'è un problema, rispondendo alla consigliera Vignati, di falso, di illusione perché sono due cose differenti, purtroppo forse come eravate impegnati a studiare dopo i 15 giorni le carte, avete saltato, non avete sentito i giornali, il comune di Napoli è stato condannato dalla Corte dei Conti per illusione del patto di stabilità ed è esattamente la stessa motivazione per cui i consiglieri della vasta amministrazione sono stati condannati. Qualcuno... scusate, hai ragione? Scusate, hai ragione? Scusate, ho sbagliato. Hai ragione, chiedo scusa. Sono stati indagati. Indagati, sono ancora oggetto di indagini. Ma posso? Ce l'ho scusato di indagini. Sì, ho scusato di indagini. Qualcuno che è stato più attento avrà sentito che l'illusione al patto di stabilità era sul bilancio con Zutico del comune di Napoli. ma qualcuno ancora più attento si andrà a leggere e spero e credevo che probabilmente il professore Barra ci potesse almeno sentire su questo. Allora, c'è un articolo di legge esattamente, lo leggo perché ne lo sono scritto perché essendo ignorante in materia chiaramente devo leggere per forza. Allora, c'è l'obbligo per quanto riguarda il bilancio sia il consultivo che il previsionale. c'è l'obbligo della stabilità, del patto di stabilità. In tutto, per quanto riguarda qualcuno che ha studiato, perciò chiedevo di Barra, perché essendo un commercialista sicuramente ha sentito dell'armonizzazione dei bilanci. Mi ripeto, io non sono un tecnico, ho approfondito un pochettino e per l'armonizzazione dei bilanci sia quello di previsione che quello a consultivo devono rispettare il patto di stabilità. Questo bilancio, questo bilancio di previsione che state andando ad approvare, perché giustamente come diceva Luisa, noi sicuramente non voteremo, presenta una marea di erosioni. Al di là di quella che ha detto la consigliera Terletti su Campania, su Casoria Piena, al di là di quella che ha letto la dottoressa Margo sui fondi di credito di dubbi e sicurità, ma noi saltiamo, e qua mi richiamo a lei consigliere Ferrara, perché prima lei ha detto che non siete a conoscenza dei debiti di Casoria del Consigli Nero Consorbrite, perché sono arrivati solo quest'anno e quindi non vanno nei debiti dell'anno scorso. Il problema è, caro consigliere Ferrara, che con delibera numero 16 del 18 maggio 2017, agli atti c'è il resovonto, l'allora avvocato di Avalone, dipendente ora in pensione di questa azienda, faceva presente all'amministrazione, ai revisori, che c'era un debito di 4 milioni e 850 mila per quanto riguarda il Consorzio cimiteriale. Il che significa che quel debito è stato spostato in avanti e siccome è stato spostato in avanti è lo stesso motivo di contanna che ha avuto il Comune di Napoli. Ma al di là dei 4 milioni e 850 milioni che parlava l'avvocato di Avalone, ci sono ulteriori all'incirca, adesso è inutile che vado a prendere le carte, ci sono all'incirca 6 milioni e 8 di debiti fuori il bilancio di anni precedenti che voi vi state riportando tutti gli anni, avete messo la dichiarazione 150 mila volte, li avete enunciati, li avete dichiarati, non li avete mai portati nel bilancio. Questo significa eludere il bilancio, questo significa essere condannati dalla morte dei morti. E per come diceva la professoressa Marco, se a differenza dei precedenti amministratori, che erano tutti ladri, tutti delinquenti, tutta gente che però ignorava la materia, voi invece avete studiato, dopo i 15 giorni che vi eravate presi per il bilancio come termini di legge, siete andati a studiare. Noi abbiamo fatto pressione psicologica, perché diceva il consigliere Casolaro una volta scorsa che noi facciamo pressione psicologica. Noi vi stiamo raccontando la verità, la verità di questa Casolaro, c'è una pressione di condannanza. Hai convinto il consigliere Casolaro, il consigliere Casolaro ha detto, lo sa, ma che sì, lo fa, eh? Però non piace, non vuole mai, che se non fu, che ci serve una casarella, anche se adesso ha una nuova casarella sola. Però il problema è un'altra, il problema è un'altra, assolutamente c'è l'altro. Vengono tutti da una buona scuola, tra le ferro che hanno avuto quello che hanno avuto. Mi dispiace proprio per te, fai certe allusioni. Non è quello il problema. Vedi, io non ho mai fatto il consigliere comunale. Fortunatamente per me non sono mai stato indagato e spero di non esserlo mai. Vi leggo un'ultima nota che probabilmente a qualcuno non sarà scappato ed è un'ultima nota pubblicata da enti locali e pubblica amministrazione che è il giornalino che nelle pubblica amministrazione si leggono e sicuramente il segretario, il quasi dirigente e i revisori dei conti hanno letto revisori tutti gli errori da evitare nel parere dei debiti fuori bilancio. Oltre a tutte le cose che non sono state messe, tutti quelli invece che avete messo all'interno mancano dell'operatività, che significa che nel parere dei revisori sui debiti fuori bilancio che avete appostato per 3 milioni e 8, non c'è la scheda tecnica dove è prevista qual è il debito, chi è il dirigente che l'ha provocato e chi è il dirigente colpevole. Perché la rotta e la rotta dei conti nelle sezioni della Liguria, del Veneto e della Lombardia con vari atti hanno condannato i consiglieri al pagamento di queste spese perché i dirigenti sono responsabili ma i consiglieri che non fanno osservare queste cose sono responsabili dello stesso. E siccome, questa è una nota a margine, i nostri revisori, e mi dispiace che stasera non sono qui ma lo dico, mi trovo un aperto e spero che possano leggere la registrazione, mi meraviglia e veramente sono deluso dai nostri revisori, ecco che prima avevo detto speravo in una nota, perché i nostri revisori non sono di nomina politica come avveniva una volta, per cui dice ok, io moralmente mi sento vicino al sindaco e quindi faccio un piccolo artificio che si può fare. Questi sono stati nominati dalla Preventura, quindi hanno tutta la tranquillità e la legittimità di poter lavorare e non è possibile che in due anni non ci hanno dato un parere favorevole senza condizioni e senza regole, perché io non posso dire che il parere è favorevole quando non ci stanno le carte. E a riprova di questo, nel verbale 69 dell'11 aprile, quindi nel giorno in cui ci approvavamo, appostavamo ad approvare il fidancio, ora hanno fatto un altro verbale in cui dice che manca ancora tutta la documentazione dai cinque mesi a questa parte, ed è quella la gravità della cosa. Io non so come fare a condannare questo bilancio, vi giuro, mi dispiace, perché al di là del piccolo frainteso con Cortese che spero riusciremo a derivere, perché probabilmente tra persone intelligenti le cose generalmente si chiariscono. è una cosa grave che voi, dopo aver rinviato il Consiglio Comunale, vi venite a leggere quella che ha detto tu, Mauro. C'è una serie di accertamenti che secondo voi vanno bene. Mi fa piacere, perché ripeto, dovete volare voi, quindi siete convinti e spero che siate fermamente convinti di quello. Io ho il mio dovere di opposizione di rendervi ed oggi. Ho cercato di studiare quando meglio possibile. Molto probabilmente abbiamo sbagliato. Spero di sbagliare per evitare quello che è successo ad altri. Però vi ripeto, cioè, leggete attentamente le carte prima di andare e approvarvi questo piaccio. Grazie, consigliere Salma. Allora, io voglio ricordare a tutti...